Estate di restyling per le due principali strutture sportive cittadine. Il comune ha infatti deliberato il via alla ristrutturazione del palazzetto dello sport e il rifacimento dell'impianto di illuminazione dello stadio Porta Elisa. Per il Porta Elisa sono previsti anche il rifacimento dei bagni e dei presidi di sicurezza in vista dell'esordio della Lucchese nel campionato professionistico. Più consistente l'intervento, finanziato con 115.000 euro, del pala tagliate. I lavori consisteranno nel rifacimento della terrazza a lato nord, del rissanamento del cemento armato visibilmente deteriorato e della messa a norma delle ringhiare esterne. Previsto anche il rifacimento delle coperture e il ripristino dell'impermeabilizzazione. Per quanto riguarda lo stadio, gli attuali riflettori verranno sostituiti con un'illuminazione di intensità pari a 500 lux, come previsto dalla normativa FIGC. Nel documento di giunta si specifica che l'adeguamento sarà effettuato entro il 31 marzo 2015. Niente di fatto, invece, sul versante concessione. La convenzione con la società rossonera non è ancora stata definita, per cui il sindaco comunicherà alla Lega Pro che l'utilizzo del Porta Elisa è riservato alla Lucchese per la stagione 2014-2015. Grazie a tutti.